Oggi parliamo di calcio. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Oggi parliamo della situazione del calcio, del football italiano, che è stato condizionato pesantemente dal covid. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon. Puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. E se vuoi prenotare una lezione con me, trovi il link in descrizione. La prima parola è attuale. Un aggettivo che specifica qualcosa di contemporaneo, che riguarda il presente. Un problema attuale è un problema di questo momento. Un problema attuale è sicuramente il covid. La seconda parola è fiato. Il fiato è l'aria che esce dai polmoni. Quando respiri. Quando nuoti, invece, devi trattenere il fiato. Non devi respirare. La terza parola è estero. Estero è un sinonimo di straniero. L'estero, con l'articolo, indica in modo indeterminato tutto l'insieme dei paesi stranieri. Puoi dire di andare all'estero o di lavorare all'estero. Non sai in quale paese. Non specifichi in quale paese. Ma è sicuramente fuori dall'Italia. Ok, siamo pronti per leggere la notizia di oggi. Avere gli stadi pieni è un problema molto attuale. Il pubblico sportivo, infatti, usa molto la voce. La voce e il fiato sono i mezzi più usati dal coronavirus per passare da persona a persona. Inoltre, il pubblico sportivo non mantiene il distanziamento sociale. Per questi motivi, per il momento, in Italia nelle partite di calcio possono entrare solo mille spettatori a partita. La federazione calcio e il governo stanno discutendo per aumentare il numero degli spettatori senza aumentare il rischio del contagio. All'estero, invece, gli stadi si stanno riempiendo già da alcune settimane. La squadra del Napoli sarebbe dovuta andare a Torino per giocare contro la Juventus. La Juventus è una squadra di Torino. Un giocatore del Napoli era risultato positivo al test del coronavirus. L'azienda sanitaria della Campania, ovvero l'ente pubblico che gestisce i servizi sanitari della Campania, della regione Campania, ha bloccato la squadra del Napoli. Normalmente, se una squadra non si presenta, perde automaticamente 3 a 0. Ma in questo caso la squadra non è andata a Torino per un ordine di un ente pubblico. Come puoi immaginare, da quasi una settimana in Italia si parla solo di questa partita. Non sappiamo ancora come finirà questa storia. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast, puoi offrirmi un cappuccino sul mio Patreon o puoi prenotare una lezione con me. Noi ci sentiamo domani. Ciao! Noi ci sentiamo domani.